Ragazzuoli, sono bellissima di annunciarvi che oggi è il grande giorno, perché questo pomeriggio alle ore 16 uscirà ufficialmente la mia primissima mappa su Fortnite. Ebbene sì ragazzi, quindi oggi alle 16 vi aspetto puntuali in live sul mio canale Viola, perché andremo a giocare per la prima volta insieme nella mia mappa e voi potete giocare sia insieme a me che contro di me. Perché la mappa in questione ragazzi è una box fight 2 contro 2 ma con possibilità di giocare anche in 1 contro 1 con i vostri amici o contro altri giocatori che sono giocando per l'appunto la mappa e la mappa ragazzi ha 0 delay quindi funziona davvero alla perfezione. Vi assicuro ragazzi che dietro questa mappa e dietro questo progetto ci sono tante ore e tanti giorni di lavoro da parte del mio team che hanno lavorato sodo per rendere questa mappa perfetta e soprattutto curata nei minimi dettagli per offrirvi un panorama assolutamente sublime. Entrando nella mappa vi troverete davanti un'hub di partenza dove potete selezionare i team di cui far parte e anche un tabellone molto grande dove contiene diversi set di armi che potete utilizzare all'interno della box fight. In più troverete anche un easter egg molto particolare ovvero quello di poter visitare la mia stanzettina da streaming personale e privata dove ci sono io che mi rilasso sul mio lettino insieme alla mia gattina. Mi raccomando raga non fate nulla di sano perché guardate che io vi controllo e mi potrei arrabbiare quindi guai a voi. Quindi ragazzi nella speranza che questa mappa vi possa piacere e che vi possa aiutare ad allenarvi in box fight vi assicuro che ci faremo dei contenuti ogni giorno sia sul mio canale viola che su instagram che anche qui su youtube faremo delle compilation dove io mi scontrerò contro di voi e mi allenerò anche con voi. Davvero ragazzi ci tengo tantissimo quindi io vi aspetto in live alle 16 per provare la mappa insieme. Anche in build quante partite magari capita di perdere perché voglio magari boxare uno fatto in un modo e... Mi succede spesso questa cosa però era bella perché anche quello mi chiede se mi sono beccati due cecchinate, tre cecchinate. Ma guarda che secondo me la partita è stata bella uguale. Sì sì no ma era vinta 100% se non piccavo. Ma no ma la partita io la metto sul canale pensa te. È veramente bella. Diciamo che aprire la cast, fare il cecchino oro mi piace però subito aspetta un attimo. Dio Cristo però è buono. Sì. Ho il broccone da 100 se vogliamo farcelo. Ok. Ok. 110. 110 allo stesso. Quello è un altro eh. Ok. Marty togliti. Da me eh. Sì arrivano un momento. Hanno preso i cosi. Ah sono andati verso le macchine. 110 110 è veramente inglorioso che non sei cascato però eh. Ti spai un altro team? Ho detto partatila. Questi sono stranissimi eh. Puzzano eh. Sì sì di brutto sono arrivati da una parte che non c'è da nulla. Abbattuto. Vado? Da me? Abbattuto il mio. Volevate fare i furbi eh. Italianini carini. Mi scopa con ciccio e con croato. Mi stanno mi scopa. Venite scopato. Venite scopato. Ah da dietro. Ciavordio. Scappo amico. Ma infatti andiamo io a rompere il culo a sto stranzetto. È dietro alla roccia tipo. Anche a sinistra. 60. 30. Ciacchinato 120. Ciacchinato di nuovo. Dai ragazzi non potete fottere con noi. Quel bibitone quanto c'ha? No lo butto c'ha 50. Dai. Un po' è il fuoco. Lo sai che mi servirebbe? Mi servirebbe un coso per modificare le armi. Ok. Possiamo andare. Ma non l'hanno preso ancora eh? Andiamo al muncherosso. Allora dai proviamoci. Ah stanno finendo il boss ora si stronti. Ok. Proviamo a farcela. No ma sono più di... Ah si si fanno i boss fanno i boss fanno i boss. Mi penso io? Sto salendo sto salendo. Vieni qua e prendi il c***o capito? Bianco Marti bianco tubo per te. Ma dove vuoi andare? Allora. Eh minchia buono. Eh. Buncherosso. È uscito lo scaroro. Buono buono mangia mangia. Quasi quasi. Martina porto io o porti tu buncheros? Quanti ne hai tu? No no io non ne ho. Ok io ne ho tre. Ok perfetto. Ora ci metti tu. Va bene? Sento parti da me. Sono qua sono qua. Ah è sempre il boss. È sempre quel c***o. Ah tu mi devi dire no? Che minchia vuoi? Eh che vuoi? Eh oh io ho fatto un attimo che sto trombando. Io l'ho capito. Mi sa che vuole trombare eh. L'ho trombato. Discio. 120. Bella. Discio. 110. Oh c***o. No. Partina è preso. Noccato 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 noccato. Andiamo 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 andiamo. Vai 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 vai. Nel bush sicuro. Ok non è scappato. Ah benissimo. Ha fatto la cosa giusta. Ah ma questo mi sa che era già stato restato lo sai? E lo sai che quell'altro mi sa che ci aveva pure il coto? Il medaglione sì 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 infatti sarà andato avanti. Sì sì ma ha fatto bene ha fatto bene ha fatto bene ha fatto bene ha fatto bene. Marti io li prenderei lì prenderei la macchina. Va bene io ma va benissimo. Ok sparano anche sull'isola. Aspettami un secondo voglio vedere un attimo qui. Ha battuto ha battuto ha battuto ha battuto ha battuto anche l'altro. Due patch shot. Occhio che vedo che jumpano. Sì non lo vedo. Quanto godo quanto godo. Fuori a Martina un botto. Volevano fare l'imboscata a rete paguri e se lo so preso e ne p***o. 120. Ma dove Marti? 120 di nuovo. A 40 HP. Io quello come lo prendo? Tranquillo tranquillo. Ma non ti conviene secondo me? No 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 infatti no. Ma andiamo via andiamo via. 120 sull'isola vai. Bella bella bella. Ok il cecchino con tre colpi ragazzi non ha veramente senza cioè. È fortissimo. Se li accecchinare di continuo cioè continuamente continuamente continuamente. Se vuoi posiziona un fortatile qua sopra. Marti comunque piacciono poco le due commette eh. Eh io c'ho 5.000 persone. Minchia. Ma mi piacciono davvero poco. Marti tu dici qua? Siamo proprio centro zona. Che dici? Martina sì decisamente. Tanto ti ripeto se poi non li usiamo siamo morti. E infatti 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 infatti. Ok. Possiamo andare anche subito se vuoi. Andiamo 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 che poi sono vicino ai colpi che c'è chi non vuole prendere. Anche perché io non ho movimento quindi devo muovermi sempre prima. Le vuoi tra impulso? Eh no no non ho spazio. A massimo dopo lascio lo scar. Ti dico di no. Stanno proprio dentro la montagna. Sì 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 infatti. Qua sotto Marti. 38 Martina a bianco. Morto. Eh brutto Covi. Prendi movimento per te. Tutto per te. Allora lascio lo scar mi sa. Sì 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 lascio lascio lascio. Tanto è inutile lo sai. Sotto il ponte. Sì sì sì. Morto. Marti non ce l'ho fatta mi dispiace. Che ti serve? Ti posso resare sì sì. Vieni qui dalla porta. Non so tutto fa per forza così piccola. Non ti preoccupare. C'è chi l'ha, c'è chi l'ha, c'è chi l'ha. Uno da me. Ok l'ultimo, l'ultimo a me. Ok. Mi ha rotto il p***o eh. Tranquillo tranquillo. Morto. Mamma mia ragazzi. Mamma mia che bella partita. Benissimo Martina. Che bella partita signori. Mamma mia comunque il fortatile al millimetro eh. Manca troppo. Mamma mia ragazzi. Bingdi. errors.